E adesso vi prego di essere un po' più sintetici perché altrimenti non ce la facciamo. Alfonso Gianni se vuole venire e poi Musacchio e poi Antonello Cervo. Poi Musacchio. Poi Antonello. Grazie. Allora partiamo dalla questione della guerra su cui tutti quanti siamo intervenuti sono intervenuti finora e sapendo che è la questione fondamentale che abbiamo di fronte e alla quale una forza della sinistra non può sfuggire e che per di più purtroppo sta creando allo stato delle cose più divisione che unità all'interno di un potenziale o anche reale movimento della sinistra. Sia che lo guardiamo su scala europea sia che lo guardiamo sulla assai più ridotta e desertica scala italiana. Tuttavia noi non possiamo come iscritti individuali alla sinistra europea non avanzare una proposta. Io credo che la proposta non possa essere diversa da quella di quella di mantenere in vita con le unghie e con i denti una trattativa che almeno finora formalmente oltre a mille difficoltà e boicottaggi non si è ancora interrotta. Mi rendo conto che la cosa può accadere mentre sto parlando ma allo stato delle cose è così e però per avere un risultato questa trattativa ha bisogno di una condizione che ora non c'è. Non esiste una trattativa a livello internazionale che non veda una figura di mediazione tra le parti in conflitto tra loro e questa figura di mediazione non può essere lasciata a un paese solo ovviamente non a Erdogan tanto meno a il presidente israeliano ma neppure alla Cina o qualora avesse intenzione di impegnarsi realmente su questo terreno finora sta in stand by diciamo così ma dovrebbe scegliere una organizzazione internazionale capace effettivamente di giocare un ruolo di terzietà rispetto alle due parti e quindi di non avere interessi immediati in causa questo ruolo non può essere svolto dall'Unione Europea non solo perché non lo vuole fare 22 32 va bene non solo perché non lo vuole fare ma perché le ultime dichiarazioni vuoi da quella sciagurata presidente del Parlamento Europeo vuoi soprattutto quelle di Michel che appoggiano l'ipotesi di una vittoria di una delle due parti in causa nella fattispecie l'Ucraina mentre noi dovremmo dire che da questa guerra tutti escono perdenti se non la si ferma e quindi personalmente ritengo che l'ipotesi dell'ONU debba essere riportata in campo ora sappiamo abbiamo scritto il programma dell'altra lupa con Sipras parlando di riforma dell'ONU e particolarmente dell'abrogazione del diritto di veto nel consiglio di sicurezza che ci sono degli ostacoli ma non possiamo pensare che si attua una riforma in tempo perché questo ruolo venga giocato per cui almeno dal punto di vista evocativo ha una sua forza l'idea che ha lanciato Luigi Ferraioli e cioè di una sessione aperta e permanente dell'ONU che accompagni un possibile proseguio della trattativa la quale non può che avere una conclusione è ovvio e cioè la neutralità dell'Ucraina neutralità dalla Nato e neutralità rispetto all'incidenza del blocco russo e ha come possibile ispirazione quella della conferenza di Helsinki del 1975 e quindi una trattativa che poi si trasporti a livello di una conferenza di carattere internazionale ovviamente non solo di ambito dell'Unione Europea anche perché la vicenda della guerra ucraina non posso dimostrarlo ma l'avete già detto in molti sta cambiando gli assetti geopolitici sta sconvolgendo le modalità con cui la globalizzazione e la deglobalizzazione stavano andando avanti sta riproducendo una ricomposizione di blocchi in conflitto tra loro sta portando delle conseguenze sul piano economico finanziario e monetario di grande rilievo e quindi si pongono al mondo nello suo complesso problemi nuovi questa può essere forse una posizione che ha un senso a portare avanti io d'altro canto sono vetero e quindi non riesco a concepire un'iniziativa politica che sia priva di una posizione da avanzare può essere anche sbagliata e quindi modificarsi e perfezionarsi nel suo farsi ma certamente non può essere priva o generica secondo problema che mi angoscia da anni e che ho affrontato spesso in modo sbagliato probabilmente senza aver imparato nulla però il problema ce l'ho davanti faccio riferimento alla relazione quella per me più interessante non sto stabilendo non sto stabilendo un sistema di valori che era quella di Ferrari quando presentava quella diciamo così descrizione tripartita delle modalità con cui si può affrontare il tema della suscettività politica potrei aggiungere un quarto ma adesso in discussione che faremo un'altra volta dico però che noi ci troviamo di fronte a questo drammatico problema che è duplice da un lato ormai nel 2023 ci sono le elezioni politiche ed è presumibile che qualcuno di noi pretenda e voglia presentare una lista cosa secondo me non indispensabile ma se avvenisse nelle condizioni che poi dirò auspicabile e il secondo problema è la costruzione di un soggetto politico che vada al di là e che trascenda il momento elettorale sia che il momento elettorale sia nazionale e che sia quello europeo la mia tesi è che l'unico modo per impostare lui secondo me sto parlando io quindi è ovvio secondo me il modo per impostare il problema è separare concettualmente le due cose almeno concettualmente poi possono anche coincidere sovrapporsi intersecarsi nel percorso pratico ma l'importante a mio modesto avviso è che concettualmente siano differenti come? Beh uno schieramento elettorale ha ovviamente una composizione non omogenea sta in sé nei termini e nella parola però può reggere può reggere e può produrre dei risultati l'ultimo che lo produsse fu l'altra Europa con Tsipras se è basata su un programma su un corpo di obiettivi che costituisce un programma in qualche modo coerente altre strade su cui si stanno muovendo se non ho capito male alcune iniziative odierne e cioè di puntare su figure carismatiche a mio parere non ci portano all'obiettivo non ci portano lontano perché parlo di un programma perché per mettere assieme più forze o per forza intendo non semplicemente i ceti politici che si autodefiniscono forze rivoluzionarie e che hanno tutto il diritto di partecipare ma esperienze di movimento esperienze intellettuali eh protagonismi di lotte e via dicendo beh bisogna che ognuna di queste forze di queste entità e identità si veda riconosciuta in una parte di questo programma non necessariamente in tutto ma si veda e si senta rappresentata cioè gli obiettivi le lotte per cui io esisto fondato la mia esperienza ho fatto queste determinate cose stanno lì dentro quel programma e non stanno negli altri schieramenti elettorali per questo che è decisivo l'aspetto programmatico e non la figura carismatica che casomai è il prodotto in seconda battuta diversa è la questione del soggetto politico ora io ricorderò sempre qualcuno eh già vedo le facce naturalmente sarà annoiato di questa citazione però come una delle riunioni più produttive la riunione Roberto tu forse sei più giovane di me puoi avere memoria anche del tempo che passa a me ormai mi si schiaccia tutto diciamo così come fosse successo ieri ma io ricordo di una riunione molto bella sulle tesi della Rosa Lusselburg Stiftung le dodici tesi con la presenza del compagno Candejas se ho pronunciato male sgridami fantastico ma ho dirato indovinare però non credo l'ultima tesi e io me la ricordo molto bene ognuno deve costruire partito politico una forza politica nel proprio paese cioè queste tesi dicevano che non bastava ovviamente sentirsi parte della sinistra europea e nello stesso tempo la sinistra europea non poteva sostituirsi a te nella costruzione del tuo soggetto politico nel luogo e nell'ambito fisico spazial politico istituzionale nel quale prevalentemente europea e allora il problema del soggetto politico ci si pone davanti ma qui qual è il soggetto politico al quale pensiamo e qui il discorso di Ferrari diventa molto interessante se potessimo riuscire a svilupparlo qui lo faremo un'altra volta io non penso più che sia possibile perseguire l'idea della costruzione di un soggetto politico di sinistra come un partito di massa credo credo ma posso sbagliare che per usare un'immagine pasoliniana famosa non si riproducono più le condizioni storico culturali politiche economiche per cui un partito diventa un paese nel paese penso a l'esistenza di un'articolazione è un pezzo a rete però poi ci vogliono alcuni hub di questa rete che permettono di tirarla dove c'è non semplicemente azione lotta ma riflessione ma pensiero politico pensiamo mi abbrevio pensiamo a questa vicenda della gkpn dove non hai semplicemente un problema non sei semplicemente davanti alla testardaggine di una lotta che si profila addirittura come possibilmente vincente non hai semplicemente l'allargamento del conflitto ad altre forze sul modello che mi ricorda persino il 68 di una comunità scientifica allargata ma hai la produzione di pensiero perché hai la produzione di un testo di legge dove hai messo insieme un'avanguardia operaia che produce non sopra le proprie teste ma con le proprie teste assieme a un'entità di giuristi quindi quanto mai tecnicalisti diciamo così beh quella è un'esperienza di lotta e di produzione di pensiero per cui non esistono le due cose in realtà in natura completamente staccate tra di loro benissimo allora se io riuscissi a costruire un soggetto che sia inclusivo questo è il grande problema e che pensi alla definizione di una teoria politica la quale non pretende di fare il pasticcere dell'avvenire quindi il nostro problema non è dare la risposta di quale sarà la società del socialismo del ventunesimo secolo eviterei di perseguire questa strada possiamo casomai più facilmente dire cosa non deve essere molto più difficile dire che cosa può essere ma né la teoria politica è semplicemente il ventaglio programmatico ma è esattamente il ventaglio programmatico lo come dire la collocazione che scegli rispetto alle contraddizioni fondamentali nel mondo insieme a una capacità di muoverti con una certa agilità nel tessuto delle contraddizioni altrui e quindi di rompere di fratturare lo schieramento avversario e per questa strada accrescere il tuo ora è questo un soggetto politico e questo soggetto politico non può nascere casualmente nasce da un lavoro come quello che il transformo sta facendo cioè da un lavoro di ricerca da un lavoro di discussione da un accanimento intellettuale da una capacità di fare un passo indietro per farne due avanti nel modo come ognuno pensa le cose nasce da questo continuo lavorio ora questo lavorio ce l'abbiamo anche in italia nel nostro paese basta aprire il web basta guardare le riviste il problema è che quello che ci manca o che abbiamo forse perduto per la strada è la convinzione di potercela fare e soprattutto quel tanto di umiltà che permette di sentirsi alla pari dentro un comune percorso ma esattamente questo sono gli iscritti individuali dal sinistro europeo se l'ho capito bene grazie 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 grazie